E salve a tutti ragazzi da PierDarkNight91 e benvenuti nella tredicesima puntata su UFC 3 modalità carriera Lottatore con il nostro Pierluigi Annecchino Quest'oggi affronteremo McDonald's Ragazzi mi sono già allenato e lo sparring ci ha fatto capire che questo avversario non è per niente facile da affrontare Perché? Perché se ci prende, se ci fa una presa o se ci fa una sottomissione siamo messi davvero molto male Io vi chiedo di lasciare tanti bei pollicioni in su, nel frattempo ho fatto 5 settimane di allenamento che ci hanno portato a sbloccare tanti vantaggi Questi sono i vantaggi attivati sul mio lottatore Pugile scorretto di livello 2 Mani pesanti di livello 2 Massima concentrazione Aumenta la precisione per i pugni quando l'avversario barcolla Fluidità di livello 4 aumenta la velocità delle combinazioni esistenti, quelle sbloccate E' vendicativo a livello 3 Quindi stiamo diventando davvero molto forti Ragazzi se quest'oggi andremo ad eliminare, ad abbattere il nostro avversario velocemente Faremo due incontri Vi faccio vedere che ci siamo preparati benissimo e abbiamo una forma massima al 100% Come sempre adesso andiamo a scegliere i pantaloncini Ci mettiamo questi pantaloncini bianchi italiani perché noi siamo l'orgoglio italiano E quindi tanti bei pollicioni in su Mi raccomando ragazzi E vediamo un po' cosa ci dicono le news Allora, stando alla reazione sui social media Per lui Gianecchino non è solo una vera promessa nella categoria dei pesi leggeri Bensì un autentico fenomeno della MMA Per averne la dimostrazione definitiva basterà assistere al suo prossimo incontro Contro Benjamin McDonald Per il quale grazie al clamore pre-incontro a Houston, Texas, USA Penso si è già registrato il tutto esaurito A questo punto è chiaro che non stia più combattendo solo per se stesso Ma per schiere di fan devoti che lo seguono ovunque vada 18.000 visualizzazioni signori E siamo pronti Eccoci qui Vediamo un attimo l'altezza e il peso del nostro avversario E poi andiamo direttamente all'incontro Vediamo se ci fa vedere qualcosa Ecco qui Allora, a 26 anni, 1,80 m per 70 kg Va bene, possiamo andare Non facciamoci prendere Non subiamo prese Sono tre incontri McDonald Vediamo se quest'oggi lo metteremo in mezzo un panino e ce lo mangeremo 3 round 3 round da 5 minuti Scappa Oh mamma mia Oh mamma mia Sui colpi, sulla salute e sulla resistenza Siamo più forti noi Quindi Non dovremmo avere problemi E infatti E infatti Qualche diretto Va a vuoto Bene Bene Va bene Lo stiamo massacrando Ancora un calcio Sulla gamba Non mi sono protetto bene qui Va bene Ai 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 Oh oh no 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 Rialzati, rialzati Pier Rialzati Meno male Allora Dobbiamo cercare di non perdere molta resistenza Perché se questo qui ci fa la presa E ha più resistenza di noi Con una sottomissione ci butta fuori Addio Possiamo salutare l'incontro Bene Bene Ancora Vai via Allora lui vuole fare sempre prese Vuoto Maledetto Ah ci ha spaccato Ci ha spaccato il naso E non ci voleva Ancora Ancora con queste prese Ai 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 Si sta ribaltando La situazione Vieni qui McDonald Vieni Ok Te l'ho detto Non lo dovevi fare Mi hai spaccato il naso Mi hai spaccato No Di nuovo Rialziamoci Rialziamoci No Mezza guardia No 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 Ecco io lo sapevo ragazzi Questo qui è una bestia Sulle sottomissioni Questo qui ci fa male Questo qui ci fa davvero molto male Allora Mezza guardia Usciamo fuori da qui Rialzati No Guardia piena Recupera Guardia piena Rialzati No ragazzi Vediamo se riusciamo Ad uscire Va bene Ci stanca Così ci stanca Maledetto Ci sta sfiancando Dai Vieni Dai Vai Lo dobbiamo sfiancare Lo dobbiamo No Di nuovo Di nuovo Oh Ok Bene Bene Va bene così Va bene Va bene Vai Qualche diretto Bello Lo dobbiamo buttare subito giù Questo può essere pericoloso Questo può essere molto pericoloso Se non va giù subito Lo dobbiamo subito buttare giù Ancora Break No Ancora Per favore Basta Rialzati Pierre Veloce No Guardia piena Niente Recuperiamo Mezza guardia Rialzati Ok Mamma mia Vai Dai così No Bene Bene Vai Vai Postura alta Lui da terra È molto pericoloso Quindi Attenzione Postura alta Vai Va bene Finisce il primo round Tutto nostro Secondo me i giudici Voteranno per noi Perché Lo abbiamo Massacrato Anche se lui Ci fa capire Che se Incomincia a fare Le sottomissioni Non abbiamo possibilità Perché noi siamo Un lottatore Debole Proprio sulle Sottomissioni Però lui È già andato Due volte giù Quindi Se prende Ancora Due colpi Critici Dovrebbe Andare a tappeto Senza Senza Neanche Capire Dove è nato E dove lavora Al McDonald's Scusate La battuta Un po' Scarsa Però Ci sta Va bene Salutiamo Le due Girls Mamma mia Gears Gears E andiamo Su In questo Secondo round Speriamo di Riuscire a Buttarlo Subito giù Perché Ok È fatta È fatta Vai 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 Finita Signori Win Su Ah mamma mia Pierre Grande Grande Difficoltà Pro Mamma mia Che pro Mamma mia Che pro Dobbiamo sbloccare Ancora molte Sottomissioni Perché non ne abbiamo Neanche una Anzi Ne abbiamo una Se non Se non sbaglio La Mataleo Se non sbaglio Si chiama E quindi Dobbiamo allenarci Proprio su quello Adesso ci andremo Ad allenare Scegliamo il nostro Prossimo avversario Ho sbloccato Parecchie palestre Lo vedremo insieme Adesso Sentiamo un po' Il Lo speaker Non perde più Non perde più Vince per knockout Iron Pierre E va bene È uno È durato Nove minuti Forse anche meno E ci siamo allenati bene Perché sapevamo Che era un lottatore Pericoloso E quindi con molta calma Abbiamo trovato Una tattica vincente E ce l'abbiamo fatta Non ha avuto possibilità Va bene Nove a dieci Per i giudici Vediamo se si abbassa un po' La nostra carriera Non penso Anche se Abbiamo subito Un piccolo spacco Al naso Ma giusto un po' Il 4% Eravamo al 70% Quindi va bene Non abbiamo preso Molti Molti soldi Su questo incontro Vediamo un po' I social Se dicono qualcosa Splendito Splentito Splendido Knockout finale Wow Knockout Da restare senza fiato L'arbitro Ferma l'incontro Grande vittoria Che performance Mamma mia signori Attenzione Megan Olivi Stasera Pier Dark Knight Ha dimostrato Di meritare attenzione Non vedo l'ora Di sapere cosa Succederà ora Vincere Avanzare Ripetere Oppure Affronterò Chiunque Voglia sfidarmi Non ho paura di nessuno Mi godrò questa vittoria Per un po' E poi comincerò A regolare Qualche conto Ci sta Questo qui Va bene Va bene Va bene Va bene Visto che Ci trattano a pezza Sui social Io direi che Questa Questa risposta Va abbastanza bene Abbiamo Undici vittorie Una sconfitta Ancora non classificato Prossimo avversario Andiamo a vedere Chi possiamo affrontare Dobbiamo stare molto attenti Speriamo di non Tro No No Già Kevin Lee Ragazzi è fortissimo No 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 Questo no Questo neanche Questo Possiamo affrontare Decker Che è l'unico Che ci ha battuto Non so se vi ricordate Ma Decker È l'unico Che ci ha battuto Quindi possiamo provare Ad affrontare lui Perché questi sono ancora Troppo forti Sì Dai La rivincita La rivincita Contro Decker Che dovrebbe essere Che dovrebbe essere Quello che ci ha battuto L'unico Che ci ha battuto Quindi adesso andiamo Ad allenarci Ragazzi adesso Incominciano a diventare Fortissimi Questa cosa Mi preoccupa Tantissimo Io andrei Nella palestra Che ho sbloccato Palestra Kickboxing E vado a allenarmi Per 5 settimane Questa volta Non vado A fare allenamenti Per Sbloccare Qualche nuova abilità Ma cercherò Principalmente Di Di Aumentare Il clamore Fare sparring E allenarmi Davvero Molto Molto Perché come potete vedere I prossimi avversari Saranno davvero Troppo forti E quindi voglio Assolutamente Cercare Di Evitare Sconfitte Brutte Io non dico Di non Perdere mai Però Evitiamo almeno Sconfitte Brutte Gioco di gambe Resistenza ai colpi Va bene Movimento testa Questo ci può stare Facciamolo Andiamo avanti Fughe In clinch Ci può stare Però Abbiamo bisogno Di un po' Di salute Cuore Eccolo qui Vai Continuiamo così Qui Il vigore Il vigore Ci può stare Sì dai Facciamoci questo E poi Vediamo un po' Se possiamo Aumentare Qualcos'altro Questo Da sotto Siamo ancora Troppo Troppo Deboli Torniamo al calendario Sono cinque settimane Quindi Ha voglia Ad allenarci Signori Adesso Facciamo un po' Di promuovi Trascorri Trascorri del tempo Per aumentare Il clamore Vi aspetto Nelle mie partite In streaming Poi Qui aumenta il denaro Se incontro Un fan In un ristorante Ecco qui Ospite Bellissimo Ospite speciale Gratis E aperto Al pubblico Incontro Con Pierluigi Anecchino Aumentano I cuoricini Stasera Incontrerò I fan Al mio ristorante Preferito Il cibo E' ottimo Ma la compagnia Sarà ancora meglio 795 Cuoricini Ragazzi Continuo ad allenare Il mio PR E poi ci vediamo Direttamente All'incontro Se no Vedete sempre Le solite cose Ok Ragazzi Ho appena finito Lo sparring Siamo già In super forma Ed ecco qui La chiave per il successo Perché se non ricordo male Questo è il lottatore Che ci ha battuto L'unico che ci ha battuto Attualmente E ci dice Il tuo avversario Sembra Sempre Emergere Con una furia Al terzo Come una furia Al terzo round Assicurati Di finirlo prima Questo qui E' uno che Contrattacca molto E scappa tanto Quindi Attenzione Adesso Continuo ad allenare Il mio lottatore Ok ragazzi Allenamento finito Ce l'abbiamo fatta Più o meno Arriviamo in una forma Perfetta Vi faccio vedere Le statistiche finali Spero che Nei prossimi incontri Non dovrò Affrontare Quei lottatori Che abbiamo visto Perché se no Qualcuno dice Qualcuno dice che si addormenta Vinci Forza Io sto con Pierre Andiamo avanti E vinciamo Dai Ci manca solo lui E poi Saranno incontri Quasi impossibili Allora Andiamo avanti Come sempre Come sempre L'entrata Ok Vediamo un po' 28 anni 1,85 70 kg E' lui ragazzi L'olandese Si Mi sa che è proprio lui Allora Tutto pronto Ok Sempre ospiti Sempre nell'angolo Che odio 3 round Da 5 minuti Eccolo qua E' proprio lui E' proprio lui Scappa come un coniglio Scappa come un coniglio Però lui ha vinto Ai punti Perché scappa E poi dà qualche colpetto Così giusto per Dai Vieni Vieni Ah questo scappa Lo dobbiamo buttare subito All'angolo Dai Guardalo qua Scappa Il coniglio scappa Dai Coniglio Questo lo dobbiamo buttare Subito giù Si schiva Dai Vai Allora Sulla gamba Questo non fa nulla L'angolo Non è pericoloso Prima Non eravamo forti Per Affrontarlo Adesso siamo Molto Molto forti Si protegge Ah Va bene Dai Vieni a fare il buono Dai Fai il buono Adesso Dai 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 La sua resistenza E' ancora Molto alta Ancora un calcio Alla gamba Maledetto Mandati a vuoto Oh mamma mia Questo qui Sempre così Sempre così Questo Dai E' una nuova mossa Signori Si si E' una nuova mossa Tutta per voi L'ho tenuta Bella nascosta Dai Dai Vai giù Su Vai giù Ma questo non si muove più Non sei più al livello Di Pierre Dai Dai calcio Dai calcio Maledetto Dai Dai Si protegge Oh Proviamoci Aia Dai 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 Buttiamolo giù Questo Dai Lo buttiamo subito giù E lo facciamo Tanto Tanto male Vai Dai 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 Capovolge No Attenzione Laterale Vai Recupera Va bene Postura alta Vai Vai Postura alta E scappa Bene Vieni Vieni Maledetto Vieni Questo qui ci fa fare tre round Questo ci fa fare tre round Se continua così A scappare Almeno penso Spero per lui Spero per lui Non mi sembri Molto in forma Decker Dai Oh mio dio Se lo prendevo Sì 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 Dai Vieni a dare il calcio Ma scappa sempre Sei solo scappare Sei solo scappare Sei solo scappare Scappa solo Scappa solo Non si fa nulla alle gambe Questo Gamba sinistra Ancora Dai Abbassa la resistenza A questo Abbassiamogli la resistenza Risponde anche lui Questo qui È Attualmente Il lottatore Che ci dà più problemi Perché Perché È uno Che non Non ti affronta È uno Che scappa E quindi ci costringe A scoprirci molto Vai 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 Grande Grande Beh diciamo Che i giudici Molto probabilmente Danno qualche punticino In più a noi In questo primo round Però Questo Decker Nonostante le statistiche È uno Dei lottatori Con Come dire È un modo Di lottare Che ci dà problemi Perché Ci costringe Ad attaccare Ci costringe A scoprirci E lui Va a nozze Proprio su questo Anche Se penso Che anche lui Nel secondo round Ci saluti Secondo me Non riuscirà A finire Questo secondo round Vediamo Speriamo che i prossimi Non saranno Quelli che abbiamo visto Ragazzi Vai Dai Preso Vai Mamma mia Pierre È una bestia Sta migliorando Moltissimo Con le gambe E basta Continua a colpirci Vai Vai Bene Attenzione Attenzione Pierre Come sempre Ci deve spaccare No 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 Caro deck Maledetto Bene Maledetto 3 minuti e 38 Oh Bene Vai Addio No ce l'ha fatta Merdoso Ce l'ha fatta Postura alta Vai Postura alta Vai Sempre E scappa Vai Lo stiamo massacrando Diretti Bloccati Uno andato a segno Ok Ah è finito No ce l'ha fatta Si è protetto Benissimo Oh Ci stiamo scoprendo Troppo per Buttarlo giù Maledetto Break Vai La gamba sinistra Non si fa nulla Questa Tienilo Bene Occhio Mamma mia Il montante Si andava Fatto 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 Ok È andato Vai Vai No Dai così Sta ancora in piedi Questo Mamma mia Vai Non va giù E non va giù E non va giù Oh mio dio Ah Vuoto Beh Oh Nel momento giusto Finita E vinciamo Ancora una volta Al secondo round Fortissimi Adesso Arriva il momento Della verità Chi saranno I prossimi avversari Quelli che abbiamo visto In precedenza Prima di Accettare Decker Se sono Se sono quelli E' finita Ragazzi Sono troppo forti Mamma mia Fortissimi Guarda 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 Che incrocio Oh Bellissimo Allora Come sempre Sentiamo La decisione Ufficiale Che darà La vittoria A Pierluigi Facciamo una cosa Più crescerà Pierluigi Più Cercheremo Di farlo diventare Meno Adolescente Tra virgolette E poi Cambieremo Il colore Dei capelli E metteremo Il mio colore Originale In modo da Cercare di Far capire Che il ragazzo È cresciuto E quindi Adesso è molto Più serio Diciamo così Vedremo Vedremo Comunque Lui Ha dato Molti più colpi Significativi Noi abbiamo Dato più colpi Però Siamo stati In controllo E quindi Nessun problema Va bene Però questo qui Ci ha fatto Molto male Secondo me Questo qui Ci ha fatto Davvero Tanto male Andiamo a vedere Un po' Vediamo Ok Guadagna Popolarità 60 Abbiamo perso 1,8 1,8 È assai Più di 1,8 Se non sbaglio Questa cosa Non mi piace Non mi piace Allora Menu post Incontro Vediamo Vediamo cosa Ci dice Sbam Voglio il bis Wow Congratulazioni Bel lavoro Là fuori È sempre dura Dover aspettare Il prossimo incontro Ma che Chi è Mosconi Ma che Vabbè Vabbè Uno Proprio Non ne vuole sapere Ok Questa è La fine Che ha fatto Ci siamo presi La nostra rivincita Adesso abbiamo Molti più Sostenitori Molti più Cuoricini E adesso Scopriremo Il prossimo Avversario E di sicuro Dalla prossima puntata Non possiamo fare Gli sboroni Vediamo un po' Secondo me È come dico io No no Meno male Meno male Abraham Bogman 10 vittorie 4 sconfitte Molto forte Sulle prese Mamma mia Poi abbiamo Will Brooks 20 vittorie 4 sconfitte Troppo forte Per noi Troppo 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 Poi abbiamo Sang Ngu Mamma mia Non pensate male 90 colpi Sì sì Sono questi Io direi di andare Prima su Abraham Bowman Però questo qui Ci fa male Con le prese Oddio Oddio Non so cosa fare Noi vinciamo Solo sulla resistenza Forse possiamo arrivare Con la salute Quasi Quasi Appari Ho questo Mamma mia Noi sulle prese Siamo ancora 69 Oddio E se questo qui Ci fa le prese Dai ragazzi Facciamo questo Andiamo Gradino Per gradino Perché Qui la vedo Davvero Molto 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 Buia Grigia E tutto Tutto Scuro Va bene Programma di allenamento Lo faremo nella prossima Puntata Molto probabilmente Non lo so Forse andrò In una palestra Nuova Questa di lotta libera Chissà sblocco Qualcos'altro Vediamo un po' Dobbiamo cercare di migliorare Sulle prese Perché questo avversario Molto probabilmente Ce lo dirà anche Lo sparring Sarà un avversario Difficile da battere Ragazzi Ci vediamo nella prossima Puntata Ma penso che La prossima puntata Sarà caratterizzata Da qualche problemino Perché Se Come abbiamo fatto In questa puntata Elimineremo Abbatteremo Subito Questo avversario Americano Poi andremo Ad affrontare Un altro avversario Sicuramente Sarà uno di quei due Che abbiamo visto prima E quindi Secondo me La seconda sconfitta Può arrivare Ragazzi Lasciate un bel like Condividete Commentate Ci vediamo nella prossima puntata Un bacione a tutti Ciao